Firmato l'accordo di finanza pubblica tra Stato e Regione siciliana dopo una lunga trattativa. Affirmare l'intesa, che aggiorna quella già raggiunta nel dicembre del 2018, il governatore Nello Musumeci e il ministro dell'economia Daniele Franco. Grazie a questo accordo la Regione potrà conseguire significativi risparmi di spesa, incrementi delle entrate, l'introduzione della fiscalità di sviluppo e la razionalizzazione di alcune rilevanti poste di bilancio. L'intesa è inserita nel disegno di legge di bilancio dello Stato 2022, adesso all'esame del Senato, dopo un lungo negoziato tra le strutture del MEF e quello dell'assessorato all'economia. Consente di conseguire un abbattimento del concorso alla finanza pubblica di 200 milioni di euro, riducendo così il contributo a 800 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2022 rispetto al miliardo di euro imposto sino al 2021. Dal 2022 la Regione riceverà 100 milioni di euro all'anno a titolo di acconto per la definizione delle norme di attuazione in materia finanziaria e per la compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insuralità. Ed è il primo formale riconoscimento della compensazione finanziaria relativa alla condizione dell'insularità in termini permanenti nell'ordinamento giuridico italiano, in linea con le iniziative portate avanti al governo musumeici sulla determinazione dei costi della condizione di insularità, ma di una riduzione che complessivamente garantisce alla Regione il sostanziale ritorno ai saldi del 2012, quando il concorso finanziario regionale iniziò a crescere incessantemente sino a raggiungere la cifra di 1,3 miliardi di euro annui nel 2017. In sintesi, rispetto a quell'anno, l'intesa consente la riduzione dei trasferimenti in favore dello Stato al 2022, anno di conclusione della legislatura, di circa 1,5 miliardi di euro, mentre sino al 2025 la riduzione complessiva raggiungerà i 3,5 miliardi di euro. L'accordo rende altresì immediatamente disponibile anche l'importo di 66 milioni di euro per il 2021, essenziale per le variazioni di bilancio all'esame dell'Ars. Giunge poi finalmente a compimento l'obiettivo di conseguire l'attuazione della fiscalità di sviluppo al fine di favorire l'insediamento di imprese e cittadini europei ed extraeuropei nel territorio della regione che trova fondamento nello statuto regionale.